Con totale slick, asciutto, la scuola masce c'era un po' di unità, penso che questa gara qui con tanta pioggia sia difficile da effettuare, quindi speriamo di essere fortunati domani. Anche io mi affido al direttore, che ha sempre fatto una gestione da gara molto crescente, quindi spero che anche domani l'Europidiesca organizzata è venuta al massimo, come sempre, come gli anni passati. Penso che per noi a livello tecnico cambia poco, quando è una questione di sicurezza, penso che la sicurezza lega prima di tutto, quindi si è stata accorciata che 200 metri dispiace per non avere i filimenti degli anni precedenti, dei tempi, però a noi cambia poco alla fine, quindi se è una questione di sicurezza così siamo tutti più tranquilli, bene, cambia niente. Ho dè di seguito al seguito dell'accordo, penso che tutti lavoranoierà diフimbare in Qür mucho, Ne stazioni di hanging out di prima volta, in quanto si è in ogni che regco, alla fine della migli SHA, però domande bambini da piùbarcetta in Qür diciamo... e bambini… Calla di paziente di questo... Grazie a tutti